Mezzogiorno in punto e puntuali, siamo anche oggi con il nostro Focus Tg, buona giornata e bentrovati fino alle 13 insieme con l'attualità di giornata, commenti, notizie, aggiornamenti ovviamente. Saluto subito il nostro ospite, sarà con noi per gran parte della puntata, Giacomo Possamai che è candidato alle prossime regionali per il Partito Democratico, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno, prendiamo subito spunto dal primo servizio che abbiamo in scaletta, poi tra poco avremo anche un collegamento con Padova, parliamo ovviamente del maltempo che tra sabato e soprattutto domenica ha colpito gran parte del veronese, ma non solo. Vediamo questo servizio e poi lo commentiamo con l'ospite. Di tutte le strade, di tutte quelle cose che avete visto nelle immagini della giornata di domenica, siamo riusciti nel giro di poche ore a far ritornare tutto alla normalità. Da domenica sera, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, cittadini di Verona al lavoro giorno e notte per ripulire strade, negozi, abitazioni dopo la grande paura. La nostra priorità era riportare la situazione alla normalità, spiega il sindaco Sbuarina, che ha deciso di tenere attivo il COC anche nei prossimi giorni. Poi si procederà con la conta precisa dei danni, decine di milioni di euro tra patrimonio pubblico e beni privati. Sono nella mia stanza con gli scuri chiusi perché i vetri di Palazzo Barbieri del Comune qui in Piazza Bra sono esplosi completamente. Anche i palazzi storici, i palazzi scaligere, quindi quelli che si affacciano su Piazza delle Erbe, dove abbiamo la Galleria d'Arte Moderna, anche lì sono esplosi tantissimi vetri, così come il Museo di Storia Naturale, che è una nostra eccellenza, ha subito degli arragamenti, anche lì l'esplosione di una serie di tantissimi vetri, ma poi, come vedete, gli alberi, i pari di illuminazione, i piatti semaforici, strade, marciapiedi, giardini. Un elenco lunghissimo, basti dire che nella sola notte di domenica sono state oltre 3.000 richieste di aiuto, oltre 500 gli alberi abbattuti dalla furia del vento, tra questi anche il cosiddetto cipresso di Goethe, un esemplare secolare divenuto vero e proprio simbolo del giardino di Villa Giusti, un fenomeno atmosferico particolare che ha scatenato la sua potenza sulla città. È stata proprio una striscia, cioè una striscia che parte dal lago di Garda, dove probabilmente si è generato questo evento incredibile e poi venendo verso la città ha colpito tutta la nostra Valpolicella, ha attraversato la città, tenete conto che la parte più a sud della città in realtà non è stata praticamente colpita, purtroppo scaricando proprio nella zona della città il massimo della sua furia. Danni pesantissimi anche all'agricoltura nella fascia compresa tra la parte est di Verona fino alla Valpolicella, toccando Isola della Scala e la frazione di Tarmassia. Dove è colpito ha fatto danni tremendi, danni del 100%, quindi di fatto il raccolto è totalmente compromesso e chiaramente potrebbe portare dei problemi anche per la successiva stagione produttiva. Stimava il Consorzio di tutela Viglia della Policella circa un 5% della superficie, non è molto ma dove ha colpito ha fatto veramente, come ripeto, danni del 100%. Intanto non si placano le polemiche dopo il tweet del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che di fronte a quanto accaduto aveva parlato di karma riferendosi ai cittadini nazifascisti e nazisti. Oggi le sue scuse a Verona attraverso le pagine del quotidiano. Ho sbagliato, scrive, perché non intendevo invocare una punizione divina contro chi che sia. Parole che però non hanno fatto cambiare idea al sindaco Sboarina. Questa mattina mi ha deciso in giunta di correlarlo e di fare un esposto all'ordine dei giornalisti. Perché, poi scuse non si riesce a capire, perché il tweet di ieri era sufficientemente chiaro. Non è più accettabile, cioè io non accetto più che ci siano gratuitamente, anche e soprattutto in costanza di situazioni di questo tipo, in cui siamo tutti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, a rimettere in ordine quello che l'ubifraggio ha distrutto, ci sia qualcuno che si prende la libertà di insultare, di offendere in modo gratuito. Ecco allora, coinvolgo subito il nostro ospite, Giacomo Possamai. Partiamo da questa vicenda di Berizzi. Lei che idea si è fatto? Che fosse un tweet francamente vergognoso, nel senso che non aveva nessun senso, tanto più non aveva nessun senso in quel momento. E' stato un tweet fatto nel momento di massima sofferenza di una città come Verona e quindi proprio da condannare nel modo più assoluto. Invece sul tema maltempo, qui poi la gara a dare le colpe è sempre più frequente, perché sempre più frequenti sono gli episodi. Abbiamo visto il Veronese, ma sappiamo che anche parte del Vicentino, buona parte del Padovano è stata colpita. L'altro giorno, chissà poi cosa ci aspetta nel weekend, perché è attesa un'altra ondata. Però Possamai, non possiamo ad ogni temporale stare qui a discutere su quali sono le colpe. Credo che prima o poi bisogna intervenire. E' evidente che dobbiamo agire su due fronti. Il primo è che i fenomeni climatici estremi sono sempre più frequenti, come diceva lei. Sempre più spesso vediamo acquazzoni con in un'ora o due ore la pioggia che dovrebbe cadere in un anno e quindi situazioni a cui non eravamo abituati. Segno che il clima sta cambiando e segno che l'uomo ha delle responsabilità pesantissime su questo fronte. Per cui su tutti i temi legati all'ambiente, dal consumo di suolo, perché uno dei motivi per cui il nostro territorio va così in difficoltà è che essendo la regione più cementificata d'Italia ormai, anche l'anno scorso il Veneto è stata la regione maglia nera, cioè la regione in cui più suolo verde, più territorio verde è passato ad essere costruito, 785 ettari di terreno che sono passati da verde a costruito. Più è cementificato un territorio, meno ovviamente l'acqua può colare, percolare nel sottosuolo e quindi abbiamo le condizioni di allagamento, abbiamo le condizioni di problematicità che abbiamo visto. E questo è un pezzo. E l'altro pezzo è che dobbiamo assolutamente strutturarci per gestire in maniera diversa le emergenze, quindi vuol dire opere legate alla gestione delle acque, vuol dire canali scolmatori, vuol dire i bacini di laminazione, vuol dire manutenzione del territorio, perché ieri abbiamo visto, insomma i giorni scorsi abbiamo visto Verona, qualche settimana fa abbiamo visto Solagna qui nel Bassanese e abbiamo visto che lì il tema è proprio la manutenzione del territorio, quindi come manteniamo le nostre colline, come manteniamo le nostre montagne, quindi quello è l'altro pezzo. Quindi c'è tantissimo da fare, in questi anni soprattutto la politica regionale ha parlato, anzi in alcuni casi ha detto addirittura che il cambiamento climatico non esiste, penso all'assessore Marcato, salvo poi scoprire che il cambiamento climatico esiste e sta facendo dei danni clamorosi e terribili alla nostra terra. Ecco su questo, visto che lei è candidato alla regione, la regione ha compiti pianificatori ovviamente su larga scala e a tempo largo, penso a com'era il Veneto 30 anni fa, ovviamente non c'erano questi fenomeni intensi, ma non c'era anche tutto il cemento o altre opere che abbiamo visto. Quindi il problema è, e su questo le propongo la riflessione, ci sono interventi da fare subito ma i cui effetti si vedranno magari fra tanti anni? Sicuramente ci sono alcuni interventi che dobbiamo fare subito e che possono avere effetto anche a breve termine, per esempio parlavo prima del consumo di suolo, su quel fronte dobbiamo assolutamente bloccare le nuove edificazioni, ma attenzione non con l'idea che il mondo delle costruzioni debba affermarsi, c'è una grande opportunità che è la rigenerazione del patrimonio edilizio, il Veneto è uno dei patrimoni edilizzi più vecchi d'Italia, oggi ci sono l'ecobonus, ci sono tantissimi strumenti di incentivo nazionale, ci sono fondi strutturali europei per l'efficientamento energetico degli edifici, per cui c'è grande possibilità di crescita e di sviluppo sulla rigenerazione urbana e sul recupero di edifici già costruiti e questa è una cosa che si può fare domani mattina, penso alla mobilità, penso a una regione che sul trasporto pubblico ha fatto pochissimo in questi anni, quindi c'è spazio per fare tante cose oggi ed è evidente che le cose che facciamo oggi hanno un riflesso anche sul futuro, perché il cambiamento climatico non è certo un fenomeno veneto, non è certo che è un fenomeno mondiale, ma vediamo che nella nostra regione sta picchiando in maniera particolare, pensiamo a Vaia, pensiamo all'acqua granda, per cui qui in modo particolare dobbiamo intervenire subito. Si è collegata via Skype con noi la collega Valentina Visentina, Padova mi pare ci sia un discreto sole, buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Mirko, si sta bene, temperatura ottima, non il caldo affoso dei giorni scorsi, ci colleghiamo per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Padovano, quest'oggi vi parliamo della campagna vaccinale, perché dall'USL 6, ma anche molti pediatri e medici di base stanno invitando a vaccinarsi contro l'influenza stagionale, ovviamente sapete che i sintomi dell'influenza spesso potrebbero essere confusi con quelli del Covid, c'è stata una delibera proprio nei giorni scorsi dell'USL 6 che ha messo a disposizione 1.400.000 euro per l'acquisto, sono già disponibili 250.000 dosi per il vaccino anti-influenzale, contro le 180.000 invece dell'anno scorso, quindi si è aumentata di un terzo la possibilità di vaccino anti-influenzale per quanto riguarda la provincia di Padova. Le modalità della campagna vaccinale verranno rese note, ci hanno fatto sapere dall'USL verso i primi di settembre e potrebbe addirittura partire prima rispetto al calendario che siamo abituati a conoscere degli anni scorsi, quando la campagna vaccinale iniziava verso metà di ottobre, invece potrebbe cominciare anche già a metà settembre. Dovrebbe essere estesa le aree interessate, ovvero le categorie fragili come quelle degli anziani, il termine dell'età potrebbe essere spostata ai 60 anni, quindi mentre prima era obbligatorio vaccinarsi dai 65 anni in su, adesso c'è anche la possibilità di vaccinarsi se si ha dalla fascia completa tra i 60 e i 65 anni. Queste sono alcune delle indicazioni che ci hanno fornito dall'USL 6, mentre siamo in attesa di conoscere quelli che sono i nuovi dati che riguardano i tamponi effettuati sui turisti di rientro dai paesi esteri come la Croazia, la Grecia, Malta e la Spagna, per cui è obbligatorio dichiarare di essere ritornati ed effettuare il tampone. Bene Valentina, se non ci sono altre notizie, noi ti lasciamo all'arresto della giornata. Sto sticcando perché c'è un'altra notizia che riguarda invece i lavoratori stagionali, perché vuol dire che le associazioni di categoria degli agricoltori hanno stabilito di effettuare circa un migliaio di test sierologici sui lavoratori stagionali che proprio in questi giorni verranno impegnati per la ventennia. Quindi anche su questo punto ci saranno scritte. Ovviamente tutto da controllare, conosciamo, sappiamo bene il caso dell'AIA di Vazzola nel Trevigiano, ma poi il mondo della vendimia tocca il Padovano, tocca il Trevigiano, tocca un po' tutto il nostro territorio. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a te, buona giornata. Valentina Vicentin dalla redazione di Padova e dunque introduciamo anche con Giacomo Possamai questo tema Covid. Lei si aspettava onestamente prima dell'estate, cioè dopo la riapertura tra maggio, questa risalita? Beh, diciamo così che siamo sempre stati in terra purtroppo incognita in campo di coronavirus perché tutti noi non sapevamo che cosa sarebbe potuto capitare, non lo sapevamo noi, non lo sapevano i virologi, tanti virologi ci hanno ammonito sul fatto che probabilmente ci sarebbe stata una risalita di contagi e questo sta capitando, sta avvenendo. Il punto è che al momento la situazione è ancora sotto controllo, in primis per un tema climatico, cioè siamo ancora in piena estate, il vero elemento di preoccupazione è legato a fine settembre, inizio ottobre, a quando incomincerà anche ad esserci il virus influenzale più tradizionale. La combinazione tra influenza e coronavirus può essere molto pericolosa ed è per questo che il mese che abbiamo davanti è decisivo per contenere assolutamente i contagi e per fare in modo che non riesploda perché l'unica cosa di cui siamo certi è che non possiamo permetterci un altro lockdown, il Paese non lo sosterrebbe in primis economicamente. Da amministratore pubblico consigliere comunale a Vicenza come è stata vissuta la questione Covid-tamponi, faccio una domanda proprio da uomo della strada, i consiglieri comunali hanno potuto fare il tampone oppure no? Dipende da territorio a territorio, i consiglieri comunali non hanno avuto nessun titolo, nessun motivo e nessuna motivazione ulteriore rispetto ai cittadini, dei normali per fare il tampone perché non erano più esposti degli altri ai rischi tutto sommato, quindi l'hanno fatto in quanto o tornavano dall'estero oppure per motivi professionali, penso davvero che nelle prossime settimane anche sul fronte dei tamponi e quindi di mappare dove stanno partendo i focolai dovremmo fare uno sforzo straordinario perché come dicevo prima il punto cruciale sarà cosa capita a fine settembre, inizio ottobre, lì dobbiamo arrivarci con una mappa più chiara possibile del territorio onde evitare che la situazione ci esploda in mano. Fine settembre vuol dire ad esempio elezioni regionali e su questa combinazione Covid ed elezioni approfondiamo tra poco coinvolgendo il nostro ospite, state con noi. Focus TG fino alle 13 qui su Rete Veneta, ancora buona giornata e ben trovati, il tema Covid lo abbiamo introdotto poco fa e allora vediamo l'ultimo aggiornamento che abbiamo a disposizione con i dati che riguardano il nostro territorio pedemontano. Ancora casi di coronavirus nella zona dell'Ulce 7 pedemontana dove l'azienda sta effettuando un gran numero di tamponi. Nelle scorse ore sono state rilevate altre 7 positività al Covid-19 di cui 3 nel distretto bassanese e 4 in quello dell'Alto Vicentino. I nuovi casi portano il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 1729. Di pari passo con i positivi cresce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare nella pedemontana che sono ormai 566, 38 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono due mentre ieri erano quattro. I ricoveri sono localizzati tutti a Sant'Orso, non si registrano decessi. Questo per quanto riguarda l'Ulce 7 pedemontana, siamo ancora in attesa di avere il bollettino delle 8, di Azienda Zero. Se dovesse arrivare ovviamente ve ne daremo conto. Con il nostro ospite Giacomo Possamai, candidato alle prossime elezioni regionali del Partito Democratico, sviluppiamo questo tema che anticipavo prima della pausa. Il timore è che i contagi possano portare qualche effetto sulle elezioni regionali, ad esempio una affluenza bassa. Sì, penso che questo sia un rischio che c'è, nel senso che tante persone anche comprensibilmente hanno paura, in primis penso agli anziani che magari hanno ridotto la frequenza con cui escono da casa e quindi l'idea che tanti magari quel giorno decidano di non andare a votare appunto per timore o perché pensano che possa essere un momento a rischio è preoccupante perché le elezioni sono un momento di democrazia e quindi la partecipazione è cruciale. Quindi due cose, da un lato bisogna garantire il voto con la sicurezza massima, igienizzazione, distanze e su questo si sta facendo molto comuni, regione e governo insieme e quindi confido che sarà un voto molto sereno da questo punto di vista. L'altro aspetto è fare comunque anche in un momento difficile come questo una vera campagna elettorale nelle tre settimane o poco più che ci separano dal voto perché è fondamentale che le persone possano andare ai seggi informate, avendo seguito i programmi, i progetti, i disegni dei candidati, cosa che fino adesso è stato molto difficile fare perché campagna elettorale da un lato bloccata dal coronavirus e dall'altro in piena estate tutti i momenti di confronto sono stati sostanzialmente rinviati. Speriamo che in questa settimana sia finalmente possibile farlo. Tra l'altro si vota su due giorni quindi questo dovrebbe un po' diluire la fluenza. Si vota domenica tutto il giorno e lunedì mezza giornata fino alle 15 è fatto apposta per diluire l'affluenza e anche per consentire, visto che fino a fine settembre farà bel tempo di poter fare magari il weekend, tornare la domenica e votare il lunedì mattina. Quindi sì, si vota su due giorni come si faceva una volta, era qualche anno che invece si votava su un giorno solo, siamo tornati all'antico, ci saranno due giorni e i seggi quindi chiuderanno alle 15 del lunedì. Lei diceva una campagna elettorale che ancora fatica a prender piede rispetto al solito, lo diceva qualche giorno fa ai nostri microfoni anche il politologo Paolo Feltrin che esprimeva proprio dei dubbi su come andrà questa elezione, è la prima volta che per la regione si vota in autunno con una campagna elettorale che si mescola tra l'altro perché in Veneto ci sono molti comuni che vanno al voto, ci sono le elezioni regionali ovviamente e c'è anche il referendum, è il tema di cui forse si parla meno o no? Sì, del referendum si parla meno che degli altri argomenti perché è un referendum che evidentemente non sta scaldando i cuori da un certo punto di vista e poi perché io penso anche giustamente il primo pensiero degli elettori è sempre l'elezione più vicina, quindi da un certo punto di vista le amministrative sono sicuramente l'elezione più vicina possibile alla vita dei cittadini, ci sono tanti comuni che vanno a votare nelle prossime settimane, il 20-21 settembre, solo nel Vicentino sono 7, quindi a livello Veneto sono molti molto di più e dall'altro lato ovviamente la regione soprattutto in Veneto è da sempre una relazione molto sentita per cui è anche comprensibile da questo punto di vista, è sempre stato così, il problema è oltre che farla sentire anche far partecipare le persone, da un lato gli eventi pubblici con il rispetto di tutte le misure naturalmente delle distanze, più sono all'aperto questi incontri pubblici e meglio è e poi ovviamente la partecipazione al voto. Nel merito del referendum, così magari cominciamo ad avvicinarci a questo tema, è previsto il taglio per circa il 40%, è un referendum costituzionale quindi sarà comunque valido, vadano a votare in 10 o in 10 milioni sarà comunque valido, per questo ancora di più dunque è importante partecipare e capire di che cosa si tratta e quali sono le conseguenze del sì e del no. Certo che sì, nel senso che essendo un referendum costituzionale come diceva lei non c'è il quorum, per cui qualsiasi sia l'affluenza quel referendum sarà valido, sappiamo che il referendum è su un tema di fatto uno solo che è il taglio dei parlamentari che vengono drasticamente ridotti, quindi alla fine la questione è partecipare è importantissimo perché chi sta a casa non è che contribuisca come in altre occasioni abbiamo visto in Italia con l'astensione, nel referendum in Italia tante volte l'astensione ha vinto perché se c'è il quorum e vota meno del 50% dei cittadini il referendum è sostanzialmente nulla, è come se non si fosse tenuto, non è questo il caso, è un referendum costituzionale per cui chiunque vada a votare, qualsiasi sia il numero, quello farà fede e la scelta sarà definitiva. Lei è in politica da giovane, se non sbaglio dall'età di 23 anni? No, è stato molto prima, come passione a 15-16 anni ho fatto segretario del Movimento Giovanile, è una passione che mi ha sempre accompagnato, prima con la scuola, poi con l'università, poi con il lavoro, quasi 15 anni ormai che ho la passione per la politica che mi impegno. Quindi mi permette la battuta ma è quasi un vecchio della politica, sarebbe da rottamare come diceva la politica. La passione però è sempre quella, devo dire, quindi. Ecco, proprio sul referendum, allora, ridurre i parlamentari così drasticamente, è antipolitica o è rendere la macchina più efficiente? Allora, del taglio dei parlamentari si parla da 20 anni, nel senso che da quando ho incominciato a appassionarmi di politica è un tema discusso, qual è il punto, è come viene fatto quel taglio, nel senso che sicuramente in Italia i parlamentari sono tanti, ma più che il numero dei parlamentari il problema è come funziona il Parlamento e poi c'è un tema ovviamente legato agli stipendi dei parlamentari. La riforma è stata fatta un po' con l'accetta, cioè non è stato fatto un ragionamento su che territorio rappresentano i parlamentari, il rischio molto forte è che tante parti di territorio si troveranno senza un rappresentante, il rischio è molto elevato, dopodiché per la prima volta si è fatto un passo avanti in questo senso ed è per questo che poi il Partito Democratico ha annunciato che voterà sì al referendum come molti altri partiti. Qual è il punto però? Che a fianco al taglio dei parlamentari ci vuole per forza la riforma della legge elettorale. Oggi abbiamo una legge elettorale che per me è drammatica, è terribile, in cui i cittadini non possono neanche scegliersi i propri rappresentanti e i propri parlamentari. In Veneto almeno alle regionali abbiamo le preferenze, per cui i cittadini scelgono con il loro voto scrivendo il cognome dei candidati sulla scheda quali vogliono che siano i loro rappresentanti. A livello parlamentare ci troviamo delle liste bloccate già preparate dai partiti in cui possiamo soltanto fare la croce sui simboli dei partiti ma non scegliere i nostri rappresentanti. Tagliare i parlamentari e non consentire ai cittadini di scegliere quali devono essere i loro rappresentanti per me è profondamente sbagliato. C'è possibilità concreta che questa legge, perché il referendum dicevamo comunque avrà validità, ma la legge bisogna scriverla. Ci si arriva? Spero di sì, credo che la richiesta al Parlamento sia proprio questa, arrivare ad avere una legge di riforma elettorale prima del 20-21 settembre e perlomeno con una prima approvazione, perché vorrebbe dire, d'accordo dare l'ok al taglio dei parlamentari, ma essere tranquilli sul fatto che la rappresentanza del territorio almeno in buona parte potrebbe essere tutelata. 9 candidati alla presidenza della Regione Veneto con tutte le loro liste, poi ci sono le coalizioni principali, appunto la vostra che è quella che sostiene Arturo Lorenzoni, quella del presidente uscente Luca Zaia e poi gli altri 7 candidati che hanno invece una sola lista, un solo simbolo. Sono tanti, sono troppi? Cosa pensa? Ma fa parte della democrazia, nel senso che chi raccoglie le firme per essere candidato è giusto che lo sia, sono tanti, 9 candidati, devo dire i candidati veramente in corsa per fare risultati importanti in realtà sono pochi, penso che siano ovviamente il candidato presidente uscente Luca Zaia, Lorenzoni, probabilmente Cappelletti, il candidato dei 5 Stelle, questi sono i candidati che realmente hanno chance di fare risultato che non sia da prefisso telefonico, però ecco ci sono più candidature, sono tante, io devo dire non ho niente di contrario, penso che chi raccoglie le firme ha quindi delle persone che hanno deciso di sostenerle, hanno firmato per loro, è giusto che si cimentino con il dato democratico e quindi magari che smentiscano quello che ho appena detto, cioè che saranno soltanto tre candidati ad avere risultati diciamo così abbastanza elevati. E dunque su questo torneremo, ancora una pausa, state con noi. Terza parte del nostro focus dalle 12 alle 13, ogni giorno con l'informazione dal territorio, ospiti, commenti e notizie, stiamo parlando anche di elezioni regionali ovviamente, allora sentiamo che cosa gli studenti medi del Veneto insieme agli studenti universitari chiedono alla regione in vista proprio delle prossime elezioni, 20 e 21 settembre. Poco più di due settimane all'inizio dell'anno scolastico e gli studenti del Veneto si interrogano su quali provvedimenti verranno adottati dalle compagnie del trasporto pubblico locale, visto il distanziamento obbligatorio anticovidi del meno un metro previsto dalle ultime disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico. E su questo in realtà è il caos, studenti, docenti, genitori, non hanno un'idea di cosa li aspetterà tra poco più di due settimane. Noi chiediamo, come vedete, degli studenti medi da mesi ormai un confronto per poter parlare di tutti i problemi che non sono solo legati appunto alla distanza in classe, alla distanza sui mezzi pubblici ma magari anche alla didattica a distanza e alla didattica in presenza ovviamente. Nelle scorse ore il flash mob degli studenti proprio davanti al Palazzo Grandi Stazioni della Regione, vicino alla stazione Santa Lucia, studenti che tornano a chiedere di prendere parte agli incontri che li riguardano. Noi ci aspettiamo e anzi chiediamo con forza di essere invitati a questi incontri e di poter dire la nostra. La voce degli studenti con le loro proposte ora sulla piattaforma scuola, inclusione, diritto allo studio e istruzione universitaria tra le tematiche affrontate in vista delle imminenti elezioni regionali. Che si chiama Una Regione per Studiare e si trova appunto al sito www.unaregioneper.it per provare a fare meglio all'interno del dibattito pubblico delle elezioni quelli che sono dei temi fondamentali perché siamo convinti che una regione per studiare e quindi dove il diritto allo studio è garantito in tutte le sue forme e in tutte le sue espressioni è anche una regione per restare. Se pensiamo a quanti studenti, quanti giovani ogni anno lasciano questa regione perché ci sono ostacoli materiali insuperabili, allora capiamo che forse è venuto il momento di occuparsi dei giovani. Ecco appunto è uno dei temi elettorali, insomma i giovani al centro dell'attenzione in una regione, lo chiedo a Giacomo Possamai, che ha poli universitari di un certo peso, Padova innanzitutto, Venezia, Ca' Foscari, lo Juav, poi Verona, insomma è una città, è una regione molto universitaria e su queste richieste degli studenti di attenzione cosa si può dire? Beh che è una regione molto universitaria, ma è una regione che i giovani li ha un po' dimenticati, non ne parliamo mai ma il Veneto è l'unica regione del nord Italia che ha un rapporto negativo tra i giovani che se ne vanno dal Veneto e i giovani che arrivano in Veneto, cioè sono più i giovani che se ne vanno da questo territorio di quelli che arrivano qui. In Emilia Romagna e Lombardia per capirci non succede così, se ne va a circa lo stesso numero di giovani ma ne arrivano molti di più, perché tanti sono quelli che tornano, che fanno un'esperienza fuori e poi tornano alla loro regione. Questo per tanti motivi ma in primis per un tema di offerta universitaria e lavorativa. Esempio concreto, il Veneto ha tante università, ma sulle università non c'è un vero e proprio coordinamento. Provate a pensare a quanti corsi uguali ci sono fra le varie università del Veneto, a quanto sia difficile il rapporto in tanti casi fra università e impresa, per cui lo spazio per fare di più, lo dicevano bene i ragazzi della Letta degli Studenti Medi, i ragazzi dei movimenti studenteschi, è grande, si può fare molto di più e dobbiamo fare molto di più. Dall'università scendiamo di livello alle scuole medie e superiori, è un tema che poi tocca anche gli altri livelli, è il tema del trasporto scolastico, su cui molto si sta discutendo, si cerca di capire nei prossimi giorni cosa succede, a come gli studenti potranno arrivare a scuola, con quali regole all'interno dei mezzi di trasporto. Vediamo ad esempio che cosa succede a Padova. Si sta rischiando purtroppo il caos, non sono ancora arrivate le linee guida certe se i pullman potranno girare a tutto pieno o col distanziamento come ieri si è pronunciato ma in materia di trasporto scolastico il comitato tecnico scientifico. Faccia a faccia, torno a un tavolo, si sono riuniti gli attori del trasporto pubblico per gli studenti come Bus Italia, gli amministratori, la provincia, l'ufficio scolastico provinciale, ma su tutto regna l'incertezza, un'incertezza che per la provincia di Padova pesa sulla testa di 37 mila studenti. Il 14 settembre è alle porte, ma mancano indicazioni chiare dal governo. Non si sa ancora se per il trasporto dei ragazzi saranno valide le misure adottate in questo momento. Pullman a capienza normale, ma tutti con la mascherina. In caso di necessità di distanziamento, il problema è più concreto. Mezzi in più e la necessità di tirare fuori più soldi. Intanto sul piatto ci sono alcune idee. Evitare il rischio di assembramenti con l'arrivo di tutte le corriere nell'autostazione di Viale della Pace, creando quattro poli per i principali complessi scolastici. A Brusegana, tra Arcella e Mortise, in via Facciolati, in via Manzoni. L'incertezza è sovrana, il tempo tiranno. Il rischio è alto per il trasporto pubblico in occasione del 14 settembre, all'ora quando i nostri ragazzi dovranno andare a scuola. Gli amministratori stanno chiedendo notizie e indicazioni certe per poter fare gli amministratori e poter organizzare il servizio. È un tema molto concreto, possa mai questo. Alla mattina, alle 7 e mezza, 7, 8, insomma, i figli andranno portati a scuola. Se qualcuno non ha una rete, tipo i nonni, gli zii, qualche parenti che li possa portare, ovviamente si deve affidare al trasporto pubblico, al trasporto scolastico. Sì, rischia di essere veramente un grande problema, anche perché tutti noi abbiamo in mente le immagini, diciamo così, degli autobus, dei bus che portano normalmente i ragazzi a scuola la mattina e sappiamo quanto sono storicamente stipati e pieni di persone schiacciate. Quindi già non andava bene prima, nel senso che c'era un tema ovviamente di sicurezza, ma lo si faceva per un tema di costi, per un tema di scarsità delle linee. Proviamo a immaginare che cosa vuol dire oggi, cioè a quale potrebbe essere l'impatto dal punto di vista epidemiologico di avere ragazzi che tutte le mattine vanno a scuola pigiati all'interno di un autobus a pochi centimetri di distanza, per cui è evidente che ci sono due strade. Una è aumentare i mezzi e quindi trovare il modo di aumentare le corse, ovviamente c'è un tema economico pesantissimo perché bisogna trovare il modo di finanziarla, questa scelta, e l'altro, l'alternativa è scaglionare l'arrivo dei ragazzi nelle scuole, cioè trovare il modo di cadenzarla in maniera diversa in modo tale che non arrivino tutti allo stesso orario, ma sappiamo quanto è complicato anche questo. Dopodiché non c'è una terza ipotesi, l'idea che i ragazzi vadano a scuola schiacciati all'interno di un autobus semplicemente non ce lo possiamo permettere, perché magari lo fanno per una settimana, due settimane, tre settimane, dopodiché ci ritroviamo ad avere i focolai all'interno delle scuole e quindi ci ritroveremo a chiudere di nuovo le scuole e a non aver quindi più bisogno di portare nessuno con un autobus all'interno dei plessi scolastici. Le sottopongo due lanci di agenzia, appena arrivati tramite ANSA, del Vice Ministro della Salute per Paolo Sileri. I primi che possono conoscere la salute dei figli sono i genitori, a volte basta anche un bacio in fronte, ma un termoscanner all'entrata della scuola sarebbe un ausilio in più per la massima precauzione. Le chiedo di commentare questa intanto. Sì, è vero, la prima questione è in famiglia, l'idea è che dobbiamo avere tutti un supplemento di attenzione in più, per cui se abbiamo un figlio che ha una figlia che ha un po' di febbre o che ha qualche sintomo, dobbiamo fare in modo che quel ragazzo o quella ragazza non vada a scuola. C'è ovviamente un tema di gestione della famiglia, perché i genitori devono andare a lavorare e tante volte non sanno come fare a lasciare i figli a casa, se non hanno nonni, se non hanno parenti, per cui anche da questo punto di vista bisogna assolutamente prevedere delle formule di aiuto, penso ai congedi parentali, cioè il fatto che i genitori in casi come questi devono poter stare a casa dal lavoro senza avere un impatto, se ne sta ragionando a livello nazionale deve arrivare subito questa previsione e questo è il primo tema, il secondo tema è che mi immagino che più riusciamo a indagare sulla presenza del virus e quindi a scoprire dove c'è qualcuno che ha la febbre, quindi anche con i termoscanner ma con tutti gli altri strumenti che abbiamo è meglio, l'obiettivo è sapere dove parte il contagio e come si muove, perché l'abbiamo visto a primavera, il problema è quando il contagio si diffonde, perché non riesci più, è come quando si rompe il termometro di mercurio e cade per terra, non so se ha presente, ecco le palline di mercurio sono difficilissime a quel punto da recuperare perché si spezzettano, è lo stesso meccanismo, noi dobbiamo evitare questo e per cui prima arriviamo a verificare chi sta male, chi ha i primi sintomi, è più facile evitare che il contagio si diffonda. Prima di lasciarla ai suoi impegni di giornata, altro flash, sempre dal Vice Ministro della Salute, Sileri, sul tema mascherina, serve buonsenso, dice sarà molto difficile farla tenere i bambini della scuola primaria, ma dobbiamo ridurre la circolazione del virus, quando i bambini sono distanti a mio avviso se ne può fare a meno. Sì, devo dire da questo punto di vista penso che dovunque si possa evitare di far tenere i ragazzi piccoli, i bambini, le bambine, le mascherine bisogna provare a farlo, quindi se ci sono strumenti per avere il distanziamento sociale, per stare all'aperto, quindi per avere altri strumenti che non rendono necessaria la mascherina, va provato a fare perché provate a pensare per un bambino, una bambina di 6 anni, di 7 anni, cosa vuol dire tenere una mascherina per 5 ore, è dura per noi che siamo adulti, per i ragazzi diventa veramente quasi intollerabile, per cui certo che dove è necessario, perché non ci sono alternativi e la mascherina deve esserci, però ecco, se abbiamo strumenti alternativi tipo la distanza o tipo il fatto di stare all'aperto, forse è bene farlo perché questo aiuta i ragazzi anche a sopportare la giornata e l'attività scolastica. Giacomo Possamai, candidato alle elezioni regionali per il Partito Democratico, grazie per essere stato con noi, la lasciamo ai suoi impegni, noi invece restiamo qui fino alle 13. Ancora pochi minuti insieme qui su Rete Veneta Focus TG, ultima parte un po' più leggera, parliamo di sport, ancora di ciclismo, dopo il campionato italiano che ha coinvolto soprattutto Bassano, ma non solo, tra venerdì e domenica c'è un'altra data da segnare in calendario, vediamo. Le strade del Bassanese e della Pedemontana si coloreranno di rosa con la quinta tappa del Giro d'Italia Under 23. Sei comuni coinvolti, Bassano, Tezze, Nove, Cartigliano, Marostica, sede di partenza e Rosà che quest'anno ospita l'arrivo. Sì, molto meglio, più visibilità, però l'intento del Comune di Rosà era quello di coinvolgere il territorio. L'abbiamo fatto coinvolgendo i comuni limitrofi, Nove, Marostica, Cartigliano, Tezze, Bassano. Credo che è un segnale di ripartenza, soprattutto in questo momento, non solo di sport, di sport giovanile, ma anche di cultura e soprattutto di grande entusiasmo tra la gente. 180 atleti e 250 tra organizzatori e accompagnatori arriveranno a Marostica la sera di martedì 1, quando sarà presentato anche il libro Bartali, l'ultimo eroico. Mercoledì alle 12.15 il via da Piazza degli Scacchi, col percorso che si svilupperà su 133 chilometri, salendo per quattro volte sulla Rosina, dove non potrà esserci il grande pubblico. Chiudere totalmente la Rosina come amministrazione avremmo avuto bisogno probabilmente di un paio di battaglioni dell'esercito per riuscire a bloccare l'intera collina. Verranno eseguiti dei contingentamenti come per il cambiato italiano e naturalmente dopo aver fatto i vari incontri con la prefettura. Il traguardo della tappa sarà davanti alla sede di una delle aziende sponsor di giornata che quest'anno sarà presente anche al Tour de France. Abbiamo piacere di mostrare anche la nostra realtà, fa bene al territorio, portiamo un po' di sport nel territorio e cerchiamo di rilanciare lo sport in generale. Ci sono molte aziende nel territorio che lavorano nel settore del ciclismo, sia biciclette sia componentistica, quindi crediamo che sia giusto sostenere queste iniziative. Questo dunque è mercoledì 2, ma ancora prima in Prato della Valle c'è un'altra bella iniziativa a Padova. 120 banchi al posto dei tradizionali 170 a massimo rispetto delle regole. Si colorirà dei sapori dell'Europa da domenica 30 agosto a martedì 1 settembre Prato della Valle a Padova che ospiterà la sedicesima edizione del mercato europeo. La manifestazione doveva tenersi a fine maggio, ma per il lockdown è stata rinviata alla prossima domenica. Imperativo categorico il rispetto delle regole imposte dell'emergenza sanitaria. I banchi saranno molto allargati, i corridoi saranno molto ampi, ci sarà l'obbligo della mascherina, si sta al ristorante, insomma ai banchi che fanno ristorazione solo seduti sul posto, distanziati. Con questi accorgimenti ci siamo sentiti di dire ok proviamoci perché è importante dare il segnale che la città va avanti, ma lo fa in sicurezza. Operatori arriveranno anche dall'estero, molti vivono in Italia, gli altri sono nel nostro paese da almeno due settimane e si sono sottoposti a tampone. Durante la manifestazione sono previsti punti di igienizzazione e la sorveglianza di steward. Un flash prima di chiudere che riguarda ancora il maltempo. 458 gli interventi dei vigili del fuoco dal pomeriggio di domenica in tutto il Veneto, ancora 7 sono in corso e 13 in attesa di essere evasi. Sono impegnati 51 operatori dei vigili del fuoco suddivisi in più squadre, personale del comando di Verona, Belluno, Treviso e Padova. Buon lavoro dunque ai vigili del fuoco, buona giornata a voi, grazie per averci seguito qui su Rete Veneto, appuntamento stasera con i nostri telegiornali.